Il super bonus al 110% è un'occasione da non perdere per rilanciare lo sviluppo del Paese e la convinzione di fondazioni inarcassa. Abbiamo un'opportunità molto importante e possibilità di lavoro decisamente di alto livello dal punto di vista economico, forse meno alto dal punto di vista dell'effetto professionale, ma sicuramente c'è lavoro, ci sarebbe lavoro per tutti. Dico ci sarebbe perché poi anche nell'ambito del super bonus ci sono delle difficoltà, difficoltà legate alle incertezze, alle incertezze nei tempi, l'altro aspetto è legato a tutte le incertezze normative che si sono generate e l'altro è un ulteriore aspetto, quello legato al lavoro con la pubblica amministrazione, come già detto, che ci crea problemi nel pensare e nel riuscirci a rapportare con la pubblica amministrazione con tempi adeguati. Ormai i tempi si stanno allungando, solo un accesso agli atti per fare una verifica della situazione urbanistica nelle grandi città, ma anche in altre aree, va oltre i due o tre mesi anche con estremi di sei mesi e quindi solo pensare in una fase iniziale di avere un fermo di sei mesi per poter accedere a un atto, evidentemente questo è un altro importante problema anche pensando al tempo completo del lavoro.